Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. In mostra, Lara Pashis, le opere del maestro Domon Ken, uno dei massimi fotografi giapponesi. Le foto, scattate fra gli anni 20 e 70, descrivono i punti salienti della storia giapponese del Novecento. E poi, sere d'arte a Castel Sant'Angelo, con esibizioni di grandi nomi del teatro e della scena musicale. Domani, Peppe Barra propone il suo nuovo CD, Cammina Cammina, un omaggio al suo lungo percorso artistico. Come sempre, 060606ocomune.ruma.it